Che cos'è il deepfake? Con questo termine si indicano dei prodotti visuali, visivi, ottenuti su nuove piattaforme di cosiddetta intelligenza artificiale, che riproducono dei falsi, falsi storici, delle fotografie, parenti fotografie, piuttosto convincenti, verosimili, anche antichizzate volendo. Solitamente in ultimi tempi stanno comparendo molti artefatti di questo tipo su temi cari al mondo dell'informazione alternativa, dell'archeologia misteriosa soprattutto, o dell'ufologia. E quindi vediamo una successione di nazisti in Antartide che trovano i reperti del culto di Cthulhu, dei grandi antichi, e paleoastronautica, il volto rettiliano della Sfinge, UFO preistorici di pietra, scenari novecrastiani ad esempio, pure giganti d'olicocefali con i crani allungati. Tutto questo fa sorgere un interrogativo. Perché? Perché tutto questo? Siamo di fronte a semplici produzioni artistiche che sfruttano scenari di un immaginario collettivo ormai avvezzo a questi temi suggestivi. Oppure c'è qualcosa di altro? Il fatto stesso che questi artefatti siano estremamente verosimili e convincenti, anzitutto colpirà una parte della popolazione che tenderà a ritenerli veri, proprio perché verosimili e perché in parte corroborano delle convinzioni che queste persone realmente coltivano. Si tratta di scenari spesso leggendari, nati proprio in un contesto artistico, come nei racconti di Lovecraft, che nascono in una subcultura che in fondo è piuttosto suggestiva, ma che di fatto sono diventati dei veri e propri luoghi comuni dell'informazione alternativa. Per lo più ritenuti veri da una parte cospicua della popolazione. Quindi abbiamo sicuramente un dato di fatto. Una parte, un settore del pubblico di riferimento, del pubblico target, può effettivamente ritenerli veri. Dall'altra parte abbiamo una interessante possibile operazione culturale o psicologica, e qui entriamo nel campo proprio della Psy-Hop, in cui troviamo dei contenuti fattualmente falsi o comunque non dimostrati, quindi non entrati a far parte della conoscenza storica, che però vediamo rappresentati con dei falsi, ma con dei falsi verosimili. Quindi fatti falsi, come ipotesi di lavoro permettiamoci di ritenerli falsi, fatti falsi, mai avvenuti, però rappresentati con delle immagini, delle rappresentazioni che sono esse stesse false, sono dei falsi dichiarati spesso, ma verosimili. Quindi fatti mai avvenuti, rappresentati con dei falsi verosimili, estremamente verosimili, a volte anche piuttosto impietanti per la loro apparente verosimiglianza. E quindi siamo di fronte a una possibile operazione culturale molto, molto particolare. Cioè siamo di fronte a un'operazione che avvicina sempre di più alla post-verità. Il confine fra vero e reale, ciò che non lo è, è sempre più labile. Una totale perdita di significato del concetto di realismo e un approfondimento del processo di dissonanza cognitiva che tutte le operazioni psicologiche, di guerra psicologica, comportano. Quindi dietro questi fenomeni si può celare una operazione subliminale di manipolazione di massa. Grazie.